In questo tutorial vediamo come poter disegnare una funzione lineare con valore assoluto. Vedremo due esempi e partiamo dal primo caso, y uguale valore assoluto di x meno 3. Per disegnare questa funzione, come prima cosa, dobbiamo distinguere due casi. Quando l'argomento del valore assoluto x meno 3 risulta essere maggiore o uguale a 0 e quando l'argomento del valore assoluto x meno 3 risulta essere minore di 0. Portando meno 3 in tutte e due le disequazioni a secondo membro avremo x maggiore o uguale di 3 ed x minore di 3. Nel primo caso scriveremo x meno 3 così com'è, mentre nel secondo caso scriveremo x meno 3 cambiandogli di segno. Mentre nel secondo caso, ossia quando x è minore di 3, dobbiamo cambiare disegno all'interno del valore assoluto e scrivere meno x più 3. Restano così definite due rette, y uguale x meno 3 ed y uguale meno x più 3, che andremo a disegnare. Iniziamo a disegnare la retta y uguale x meno 3. Dobbiamo prendere due punti e allora per x scegliamo un valore a caso, ad esempio 0, ed otteniamo meno 3. Sostituendo al posto della x 0 otteniamo effettivamente meno 3 e il punto in questione risulta essere questo qui. Poi scegliamo un altro punto. Potremmo prendere qualunque valore, ma andremo a considerare questo punto, il punto di raccordo tra le due funzioni. E allora al posto della x sostituisco 3 ed otteniamo 0. Infatti, se mettiamo qui al posto della x 3, 3 meno 3 risulta essere pari a 0 ed otteniamo un secondo punto. Ora disegniamo la retta y uguale x meno 3. Osservo che la retta y uguale x meno 3 risulta essere definita per valori maggiori o uguali a 3. Innanzitutto indichiamo la retta x uguale 3 passante per il punto di raccordo. E la regione x maggiore o uguale a 3 risulta essere questa in grigio di destra. Dobbiamo allora considerare soltanto la parte della retta che si trova in questo semipiano. Ora andiamo a disegnare la retta y uguale meno x più 3. Prendiamo due punti. Allora, per x scelgo un valore a caso, ad esempio 1, e meno 1 più 3 effettivamente otteniamo 2 ed otteniamo questo punto. Dobbiamo poi prendere un altro valore. Potrei prendere qualsiasi valore per x ma preferisco sempre utilizzare il punto di raccordo. E allora al posto di x metto 3 ed ottengo 0. Ecco qui i due punti per cui passa la retta di equazione y uguale meno x più 3. Disegno la retta ed osservo che queste due rette passano entrambe per il punto 3, 0, ossia questo punto qui. Ricordiamo che la retta y uguale meno x più 3 risulta essere definita per valori della x minore di 3. E allora, come prima cosa, individuo il semipiano dove x risulta essere minore di 3, ossia è la regione a sinistra di questa retta. E dobbiamo andare a prendere in considerazione della retta y uguale meno x più 3 soltanto la porzione che si trova in questo semipiano. E risulta essere questa qui. In questo modo siamo riusciti a disegnare la funzione y uguale valore assoluto di x meno 3. Vediamo ora un secondo esempio. Andiamo a disegnare la funzione y uguale valore assoluto di x più 2. Come prima cosa dobbiamo separare il valore assoluto in due casi, quando l'argomento del valore assoluto x più 2 risulta essere maggiore o uguale a 0 e quando l'argomento del valore assoluto x più 2 risulta essere minore di 0. Nel primo caso questa quantità x più 2 la ricopiamo così com'è. Nel secondo caso dobbiamo cambiare disegno e scrivere meno x meno 2. Risolvendo le due disequazioni otteniamo x maggiore o uguale di meno 2 ed x minore di 2. Ora devo disegnare la retta y uguale x più 2 e poi la retta y uguale meno x più 2. Iniziamo da questa prima retta e prendiamo due valori. Per x possiamo scegliere ad esempio 0 ed otteniamo 2 ed ecco il punto in questione. Infatti sostituendo al posto della x 0, 0 più 2, effettivamente otteniamo 2. Scelgo un altro valore. Potrei prendere qualunque valore per la x ma preferisco utilizzare il punto di raccordo tra le due funzioni, ossia meno 2. E sostituendo al posto di x meno 2 otteniamo per y 0. Infatti se al posto di x metto meno 2, meno 2 più 2, ottengo 0. Ottengo 0. Disegno ora la retta y uguale x più 2 e devo ricordare che questa retta è definita per x maggiore o uguale di meno 2. Individuo come prima cosa la retta x uguale meno 2 e poi considero il semipiano dove x risulta essere maggiore o uguale di meno 2, ossia questa regione. Della retta devo prendere soltanto la parte che si trova in questo semipiano. Faccio ora la stessa cosa con la seconda retta, y uguale meno x meno 2. Devo prendere due valori per x, allora per x ad esempio posso scegliere 1 e ottenere y meno 3. Infatti se al posto di x metto 1 ottengo meno 1 meno 2 da cui si ottiene meno 3 e il punto risulta essere questo. Scelgo un altro valore per x, potrei prendere qualunque valore, però preferisco utilizzare il punto di raccordo che risulta essere pari a meno 2. Sostituendo al posto di x qui meno 2 ottengo meno meno 2 che è 2, meno 2 ed ottengo 0. Ora vado a tracciare la retta y uguale meno x meno 2 ed osservo che queste due rette passano entrambe per il punto meno 2, 0. Ricordo che questa retta è definita soltanto per valori di x minori di meno 2. Individuo il semipiano dove x è minore di meno 2, ossia questa regione qui a sinistra, e allora di questa retta devo considerare la parte che si trova in questo semipiano, ossia questa qui. In questo modo, unendo questi due tratti di retta, siamo riusciti a disegnare la funzione y uguale valore assoluto di x più 2. E con questo termino il tutorial su come poter disegnare una funzione lineare con valore assoluto. Grazie a tutti.